La domanda è se il colore del tuorlo, parlavamo dell'uovo, il colore del tuorlo più o meno giallo e rosso può indicare la qualità del cibo? Non più di tanto, sinceramente, però è vero che le uova molto industriali hanno un tuorlo molto colorato, molto acceso, che dipende dal fatto che aggiungono nei mangimi dei coloranti, sostanzialmente, che possono essere naturali o artificiali. In ogni caso non è un aspetto positivo, infatti se acquistiamo un uovo di fattoria, io ad esempio vado ad acquistare le uova in una fattoria a 5 km da casa mia una volta a settimana, vado a comprarle, quelle uova lì, le galline si vedono, sono tutte all'aperto, razzolano, non hanno un tuorlo molto roccio, hanno un tuorlo, diciamo, anche quasi piattito, perché non viene aggiunto il colorante nella loro mangia. Ma non è sinonimo di qualità un tuorlo molto giallo, anzi, semmai dovrebbe far scattare un pochettino un campanello d'allarme, se è troppo giallo è quasi sempre un uovo industriale.